adesso si ha fatto lui un limiter di ok ok perché ha visto che mi sta spettinando va bene quindi eravamo sul fa agile come sei su mi lascia andare ok 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 leggerino ma io non ti sento tanto leggero sarà l'audio che spingo si sente che spinge un pochino però ci sei sulla nota sta arrivando comunque chiaro io quando dico leggero intendo che è un po falsetto si si ho capito non mi sembra così tanto falsetto però magari è l'audio di zoom ma non so ok quasi sei giustissimo per essere leggero se vuoi intensificare la proiezione mi 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 giocherò un po' su questo scrillo mi 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 Ok, ok Abbiamo provato a fare il Do Il Do L'ultima nota è il Do Però sul Si si è andato alla grande Il Si è la, gli hai fatti alla grande Una volta che stabilizziamo un po' queste note memorizzate Poi proviamo a tenerle